Dopo 4 anni dall'ultimo disco, Neffa torna con un nuovo album dal titolo Molto Calmo, da cui è tratto fra l'altro uno dei maggiori successi di questa stagione, che sentiamo in rotazione radiofonica ormai da diverso tempo. L'uscita del disco è fissata per il 18 giugno nei negozi e in tutti gli store digitali. La presentazione ufficiale, la vendita in anteprima, avverrà per il concerto Assesso San Giovanni di oggi, sabato 15 giugno 2013. A proposito del titolo, Neffa spiega come Molto Calmo possa essere paragonabile a una sorta di manifesto, che invita al cambiamento. È un'indicazione che do a me stesso innanzitutto, stare calmi per agire, non di certo per stare fermi, racconta il cantante. Dopo Sognando Contromano, uscito nel 2009, e il progetto 2 di picche con J-Ax nel 2010, Neffa ha davvero fatto il botto stavolta. Il singolo Molto Calmo ha svettato le classifiche ed è diventato a tutti gli effetti un tormentone. Dopo il concerto Presentazione di Sesto San Giovanni, gli altri live saranno a Roma il 2 luglio, ad Otranto il 9 agosto e ad Appani il 10 agosto.